Ora siamo insieme e saremo veri... Rai! Visto che è in punizione in biblioteca, mi aiuterà a riordinare i libri. Signorina Denver! Ah, sì, i libri! Deve essere metodica. La precisione è tutto. Sì, signora. Precisione! Può cominciare da quel mucchio laggiù. Passo dopo a controllarla. Ah, però, beh, sembra un lavoro per Supergirl! Sarà meglio cominciare da questi. Ah, stupidi libri! Rasa al Ghul e la satta delle ombre fanno un concerto a sorpresa. Vieni anche tu? Oh, cavolo! In punizione, ti raggiungo non appena possibile. È il momento della supervelocità! Qui ci sono anche le figure! Wow! Questi libri volano dagli scaffali! Rimettili a posto, subito! Devi venire, il concerto è pazzesco! Eh? Da dove saltano fuori? C'è solo un modo di farlo. Il modo noioso. Ultimo libro! Sul ripiano più alto nessuno mi guarda! Andiamo su! Restituisco questo! Voglio questi! Restituisco questi! Prendo questi! Mi prendi in giro? Ti sei persa il miglior concerto di sempre! No! , come ve SUPER! Qui ci sono più... Quass 140 Prendo questo! Quassi? Quassi?